I carburanti sono il nostro dolore quotidiano, perché noi siamo un settore che per la legge non è definito energivoro, in realtà però viviamo di carburanti. Il gasolio rispetto all'anno scorso ha già fatto il suo bel incremento di circa il 30%, sta leggermente invertendo la tendenza all'aumento. Quello che non ci fa preoccupare moltissimo è il metano, a Pesero tutti i mezzi sono a metano perché negli anni passati abbiamo fatto una scelta anche sostenibile, sia dal punto di vista ambientale ma soprattutto dal punto di vista dei costi, perché fino a dicembre dell'anno scorso costava molto meno rispetto al gasolio. Ad oggi misuriamo incrementi del costo della materia prima, quindi metano, di oltre, che si avvicina al 400% rispetto a dicembre. Quindi quando diciamo che c'è un incremento del 400%, siccome in valore assoluto sono cifre importantissime. Stimiamo che se si dovessero congelare così le cose, quindi senza nessun peggioramento, solo per i carburanti dovremmo avere un incremento dei costi di circa un milione e mezzo di lire all'anno, che sono per noi cifre insostenibili. Come cercate di recuperare quelle spese che avete in più da dicembre 2021? Noi possiamo agire soltanto su quello che è la nostra gestione, che sono delle biriciole rispetto naturalmente alle esigenze che si sono manifestate con lo shock del prezzo dei carburanti. Allora stiamo pensando di poter fare anche dei corsi di guida, diciamo così, economica, non che a conducenti. Per fortuna abbiamo fatto un grande rinnovo del parco veicoli e quindi i mezzi nuovi consumano sicuramente un po' di meno, ma stiamo parlando di piccolissime percentuali. Gli enti affidanti hanno deciso un ritocco dei biglietti di corsa semplice o in abito urbano, biglietti orari. È un ritocco più che altro che serve anche per cercare di far fidelizzare di più l'utente. Cioè, se tu viaggiavi sporadicamente comprando 10 biglietti al mese perché ti spaventate 10 volte, fai bene i conti che potrebbe anche convenirti fare un abbonamento. Si accorcia la forbice tra il prezzo del singolo biglietto e il prezzo dell'abbonamento mensile. Quanto è l'aumento? Mediamente intorno al 10% dei biglietti. Per quello che riguarda i costi per gli abbonamenti per gli studenti non c'è nessun tipo di variazione rispetto agli anni passati. Quindi, almeno questo problema i ragazzi non lo affronteranno. Anzi, c'è una novità che, andando presso il sito del Ministero dell'Economia, è possibile andare a scaricare personalmente un buono, un bonus trasporti, detto così, del valore di 60 euro che potrà essere utilizzato per l'acquisto dell'abbonamento annuale, comunque degli abbonamenti per poter utilizzare il trasporto pubblico. Grazie. Grazie.